Buongiorno, leggiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 35. Vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Prendi l'iniziativa. Quando il buon samaritano vide l'uomo ferito che il sacerdote e il Levita avevano ignorato, prese l'iniziativa e cambiò i suoi proverami per aiutarlo. Gesù concluse la parabola dicendo, va e fa anche tu la stessa cosa. Luca, capitolo 10, versetto 37. Sam Walton, il fondatore di Walmart, insegnò a tutti i suoi dipendenti la regola dei tre metri. Questa dice così. Prometto che ogni volta che mi troverò nel raggio di tre metri da un cliente, lo guarderò negli occhi, lo saluterò e gli chiederò se lo posso aiutare. Come risultato, negozi in tutto il mondo adottano ogni giorno la regola di Sam. La maggior parte di noi riconosce il valore di prendere iniziativa. Riconosciamo la sua importanza nelle relazioni, eppure non lo facciamo. Aspettiamo che sia l'altro a fare la prima mossa. Ma questo ci fa perdere delle opportunità. Se intendi seriamente aiutare gli altri e vuoi camminare nella benedizione di Dio, non aspettare. Inizia. Il momento perfetto arriva raramente. Un vecchio proverbio ebraico dice Il saggio fa subito ciò che lo stolto fa all'ultimo. Iniziare una conversazione spesso ci mette a disagio. Offrire aiuto significa rischiare un rifiuto. Dare agli altri può portare ad un fraintendimento. Non ti sentirai pronto a tuo agio in quei momenti. Devi solo imparare a superare quei sentimenti di insicurezza e disagio. Per aiutare le persone, devi andare avanti e fare quello che gli altri non arrivano quasi mai a fare. Perciò, proprio ora, prendi l'iniziativa. Sporgiti verso l'estremo del ramo. È lì che c'è il frutto. Che il Signore ci benedica.